Un fortissimo ed urgente avviso che un fortissimo temporale si abbatterà sull'Italia tra poche ore e domani, mercoledì e giovedì 14 e 15 giugno 2023, ma prima di entrare nei dettagli non dimenticate prima di sostenerci mettendo mi piace questo video e l'iscrizione al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche in modo da poter ricevere tutto ciò che c'è di nuovo, e grazie, così anche il modello europeo e americano mette in guardia forte e mette in guardia in rosso le regioni del centro e sud Italia, l'isola di Sardegna. Zone separate a nord, e le isole della Sicilia, del pericolo di un forte temporale proveniente dall'oceano Atlantico che raggiungerà l'Italia entro poche ore da oggi, e porterà con sé quantità ingentissime di precipitazioni sia vicino o superiore a 100 mm in un brevissimo lasso di tempo, che può portare alla formazione violenta di torrenti e piene, e alla caduta di chicchi di grandine di piccole e grandi dimensioni, e pertanto invitiamo tutti alla massima prudenza durante le prossime 48 ore, perché il temporale colpirà con violenza e allerta di primo grado per Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicana, Campania, Calabria, Liguria e Sicilia, in misura minore a nord della Puglia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto e regioni separate dell'Emilia Romagna, e ogni altro importante sviluppo in queste. La forte tempesta, te la porteremo più tardi, e alla fine, che tu sia in salute.